Tra le mille bambole giocattoli in mostra dal 2 dicembre alla biblioteca di Pescarolo collezionate da Graziella del Nino veterinaria con questa passione coltivata da tantissimi anni c'è anche la bambola appartenuta a Mussolini che di ritorno dalla Germania la volle regalare si racconta proprio a Edda. Le bambole coprono un arco di tempo di cent'anni e tutte hanno una storia con molte curiosità. Dottoressa da quanto tempo colleziona bambole? Almeno 40 anni. Molte sono mie e le altre sono state acquistate di volta a volta nei mercatini e molte sono state donate da amiche. Ci sono delle particolarità in questa collezione che raccoglie veramente tantissime bambole? Sì, sono però moltissime. Però le faccio vedere questa che è una bambola Lenci. Questa bambola è stata costruita nel 1985 perché si chiama Lady Diana ma come vede assomiglia molto all'altra che ha un abito di organza più raffinato perché è stata copiata e si chiamava Chiara donata alla principessa Lady Diana nell'85 e ha preso il suo nome. Da che epoca a che epoca vanno, dottoressa, questa collezione? Da fine 1800, 1850 al 1950. Praticamente 100 anni di costruzione di bambole. Bambole che sono in biscuit come questa, poi vedremo quelle in celluloidi e poi abbiamo già visto quelle in panno Lenci. Il particolare di questa bambola tedesca è una bambola che sorprende perché come vede sta sorridendo, in questo momento sta piangendo e in questo momento sta dormendo. Quindi la bambina poteva in diversi momenti della giornata giocare con la bambola in diverse situazioni. Ecco, dottoressa, qua in che epoca siamo? Siamo nel 1921 e le bambole di celluloide che sono queste sono tutte bambole che vanno dal 1921 al 50. Dopo il 50 la celluloide è stata proibita perché è infiammabile. Questo è un magnifico bebè caractere, è prezioso prima di tutto perché è un maschio. Poi come vede è snodato, che è raro, in un bambolotto di celluloide e poi guardi l'espressione. Bebè caractere perché non è il bambolotto tipico bambolotto, è un bambino. Quindi uno scultore si è rifatto praticamente al viso di un bambino. Qua dottoressa ci sono tutta una serie di ambientazioni. Qui abbiamo una cucina, qui guarda è meraviglioso questo servizio di posate, questo qui è degli anni 30. Poi abbiamo le ambientazioni, guardiamo qua le bambole, qui c'è una cucina con tutti gli accessori che sono piuttosto la riguarda la bellezza di questi accessori. La scuola, un'altra cosa interessante è questa classe. Ci sono tutti i banchi, la maestra, i banchi e i libri e i quaderni dell'epoca dell'anno e i 40. Qui c'è anche il mio quaderno dove parlo del mio babbo. Grazie. Grazie. Grazie.